L'accompagnamento della cultura, della formazione dei giovani risponde ad esigenze mondiali. In Brasile hanno tanto apprezzato, ma là già si poteva comprendere perché un paese che ha sottilmente una matrice latina è il nostro vicino. Invece il motivo di grande orgoglio e di soddisfazione è che un paese, adesso devo dire apparentemente più distante dal nostro, ha inteso riconoscere a noi una grande professionalità ed ha sposato in pieno un principio di politica culturale che per noi è ineludibile e che non pensavamo potesse esserlo altrettanto per un paese che, ripeto, a noi sembrava distante per tradizioni e per incrocio di pensieri. In questo momento il disegno di Giffoni è il Brasile dove siamo stati e quindi l'America Latina. Rafforzare è quello che stiamo verificando col dottor Abdullah Sitz che è stato così gentile di venire a Giffoni e di verificare in che modo noi possiamo cooperare in un'area che è quella araba. E quindi abbiamo fatto una scelta, Qatar, e di guardare con attenzione però anche la nostra Europa. Quindi il nostro disegno sono i Balcani. Da 26 anni siamo in Albania, adesso abbiamo ripreso i contatti col Kosovo. Sono stato la settimana scorsa in Macedonia dove faremo anche un'attività, una nazione di 2 milioni di abitanti tra l'altro, con l'aggancio con la Serbia. Quindi questo è il disegno che noi in questo momento abbiamo. Quindi sono le tre aree sulle quali vogliamo molto investire l'esperienza, la storia e la qualità di impresa di Giffoni. E siamo così felici di questa cooperazione che pensavamo che è il momento di evolvere questa partnership into something that is more engaging, with more exchange. And it's really very exciting to reconnect, I think, with this region that has, I think, in its history been not so far from the Arab world. La sua storia non è così lontana poi dal mondo arabo. Quindi siamo molto contenti di creare questa partnership con Giffoni. Beh, da quello che abbiamo già visto è fantastica. Siamo molto incantati dalle bellezze della Campania. Siamo molto fortunati ad avere una giornata così bella e solleggiata oggi.